Bene amici, siamo ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi, Vizi e Virtù, ci spostiamo oggi sul versante del bene per andare a vedere la prima delle quattro virtù cardinali che sono, stante il Catechismo, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Per analizzare questa virtù insieme, virtù importantissima, l'aurica delle virtù, virtù di cui come per tutte quante le virtù cardinali, sapete che le virtù cardinali sono per noi battezzati certamente infuse insieme con la grazia santificante, ma sono virtù di per sé praticabili dall'uomo anche se in forma evidentemente non sempre perfetta, cioè la perfezione della pratica di queste virtù è chiaro che sia nella vita cristiana e nella vita di grazia, però penso che tutti sappiamo che delle virtù cardinali hanno dissertato, hanno quindi parlato, hanno disquisito anche fior di personalità strane nel mondo del cristianesimo, fin dai tempi della, fin dall'età classica, insomma, cioè Socrate, Platone e Aristotele parlavano di delle virtù cardinali, intanto per fare una triade di nomi molto noti, così come a Roma, filosofo dei pagani, come per esempio Seneca, ma anche poi insomma gli storici della media storia, o Marco Aurelio, personaggi di questo genere, certamente parlavano delle virtù cardinali, sappiamo bene che Roma era una grande cultrice della giustizia, uno dei tre pilastri del diritto romano, era proprio il sun cui, quelle tribuere, cioè dare a ciascuno il suo, come vedremo è il contenuto proprio essenziale della virtù cardinale della giustizia. Quindi ci troviamo in un ambito in cui abbiamo abbiamo delle possibilità, diciamo così, oggi ho parlato di moda, ecco, di dialogo anche con il mondo non espressamente credente, tuttavia evidentemente noi tratteremo questa virtù da quella pienezza e completezza che ci viene dal contesto cristiano e vorrei per questa, per soprattutto partire con qualche riferimento biblico, cioè vedere qualche brano, non tutti perché sarebbe molto elaborato, in cui ricorre il termine prudenza, si un esiste in greco, soprattutto nell'Antico Testamento, perché quali sono i testi in cui ricorre di più il termine sapienza, veramente sono tantissime ricorrenze, sono i libri sapienziali, tra cui il libro della sapienza, come vedremo nomina proprio tutte e quattro le virtù cardinali e i libri proverbi, i libri siracide, quindi libri peraltro che, come ho avuto modo di dire anche in qualche altro contesto, sono facilmente digeribili, facilmente comprensibili anche, quindi quando qualcuno ha qualche desiderio biblico, io lo invito sempre e dico guarda, se vuoi gustarti un po' di materiale edificante senza rischiare di andarti a imbattere in qualche passo oscuro che ti faccia poi insomma scervellare o ti mette in crisi, prendi i Vangeli, sì ogni tanto c'è qualche parabola un po' o qualche detto del Signore un po' oscuro, però non troppo come altri passaggi, oppure prendi i libri sapienziali, il libro della sapienza per esempio vale la pena essere detto, così come il libro dei proverbi che scende proprio alla grande, il libro del Siracide è raccontato come una sorta di detti, di sentenze che si susseguono di massimo e evidentemente sagge che si susseguono una dopo l'altra, quindi vorrei prima dare un attimo un'occhiata alla saga scrittura, poi vedere un attimo cosa ci dicono insomma su questa virtù i catechismi della Chiesa e poi come sempre concludere con la trattazione da cui prenderemo magari anche qualche spunto introduttorio di Sant'Ommaso da Tuino che come queste materie morali, come ho avuto già modo di dire, sia per quanto riguarda le virtù che per quanto riguarda i vizi ha lasciato delle trattazioni veramente puntuali, esaustive, precise, complete che fanno capire abbastanza ciò di cui stiamo parlando. Proprio partendo da lui vediamo anzitutto qualche piccola nota etimologica. Per quanto riguarda la lingua latina, prudenza potrebbe derivare da porrovidence, cioè letteralmente colui che vede lontano oppure lungimirante, queste sono intuizioni di Sant'Isidoro di cui però ci rende tutti, appunto, Sant'Ommaso da Quino nelle 10-11 questiones in cui tratta della prudenza che si trovano nella seconda seconda della somma teologia, le questioni sono dalla 47 alla 57 comprese. Quindi molto bella questa etimologia latina, porrovidence, quindi colui che vede lontano, il lungimirante, quindi è proprio così perché la prudenza non consente di vedere oltre, di guardare oltre. adesso vediamo le definizioni, pensate che una delle prime e più autorevoli definizioni validissime anche per noi è data da, fu data da Aristotele, la retta ragione delle azioni da compiere, retta ragione delle azioni da compiere, bellissima definizione della superbia, che poi, scusate, della prudenza, intanto prendo qualche lapsus, a volte me ne accorgo, altre volte non me ne accorgo, me lo risento durante la registrazione e mi metto le mani nei capelli che non ho, purtroppo. Va bene, scherzi della nostra miseria umana, post-lapsaria, retta ragione delle azioni da compiere, quindi capiamo subito l'ordine di questa virtù, che veniva appunto chiamata la regina delle virtù, perché questa è quella che presiede, quindi è quella che controlla, se uno non sa che cosa fare, non sa come regolarsi, come fa ad esercitare qualunque altra virtù, questa è la prima delle virtù cardinali, perché è basilare, senza prudenza non c'è giustizia, non c'è fortezza, non c'è temperanza, quindi bisogna tenere presente questo qui. Insieme a questa definizione di Aristotele, che è quella più proprio diretta, ce n'è anche un'altra tra le tante, che sono state date, per esempio, di Sant'Agostino, conoscenza delle cose da perseguire e di quelle da evitare. San Tommaso ha elaborato e approfondito la definizione di Aristotele, retta ragione delle azioni da compiere, diceva il filosofo greco lo stagirita, peraltro ricordiamo che Aristotele fu il precettore di Alessandro Magno, così come Seneca, che è a cammino di Piano Poveggio, deve essere il precettore di Nerone, insomma, di quel matto furioso. San Tommaso definisce la prudenza l'abito della ragion pratica, che delibera, giudica e comanda rettamente le cose ordinate al bene umano, questa è una definizione molto puntuale, completa, no? Abito della ragion pratica. Sapete che questa terminologia sarebbe stata ripresa per chi ha un po' di cultura filosofica, fu Immanuel Kant, il grande illuminista, fondatore forse dell'illuminismo europeo, nel senso stretto, anche se fu preseduto certamente da livello filosofico e da tutti quanti coloro che misero le basi a questo sciagurato movimento da cui dipende la rovina, almeno del pensiero contemporaneo. noto, insomma, che le opere principali di Kant sono la critica alla ragion pura, la famosa dissertazione su giudizi sintetici a priori, e la critica della ragion pratica, cioè ciò che ineriva alla possibilità di una vita morale per l'uomo, no? Quindi la ragion pratica, come dice il termine stesso, non è quella che semplicemente cerca astrattamente il vero, ma è quella che presiede, ordina, quindi indirizza, volge ciò che dobbiamo fare, quindi parte da un'intelligenza, quindi c'è una deliberazione, quindi c'è una considerazione, c'è un pensiero, ma dopodiché c'è una dimensione appunto pratica, c'è una deliberazione, un giudizio e poi un comando, fai così, ecco, capiamo quindi già da questo quanto è importante la prudenza, no? Questo può, diciamo, bastare come introduzione, concludiamola leggendo una bellissima frase di San Tommaso che si trova proprio nell'ultima questione che parla della prudenza, nella 57esima dell'articolo 5, scrive così, la prudenza è una virtù sommamente necessaria per la vita umana, perché vivere bene consiste nel ben operare, ma perché uno compie il bene non basta considerare ciò che compie, ma anche il modo in cui lo compie, si richiede cioè che agisca non per impeto di passione, ma seguendo un'opzione retta. La persona pudente è con lei che prima di fare qualcosa, diciamo noi oggi con una terminologia un pochino feriale, ironica, collega il cervello, pensa, conta fino a 10, che è indispensabile, noi non dobbiamo mai, se vogliamo una regola in generale, non agire mai di impulso e di pancia, come si dice oggi. Facciamo un esempio molto molto contemporaneo, Tommaso non poteva fare queste cose, no? Personalmente io detesto, ho imparato a detestare nel corso della mia esistenza, la comunicazione che tra noi mortali del XXI secolo avviene attraverso la messaggistica, i messaggi, i messaggi sono la rovina della comunicazione per quanto mi riguarda, i macelli che quando non avevo compreso questa cosa qui, quindi usavo in maniera abbastanza disinvolta questa possibilità, ho smesso, e adesso sono diventato veramente terribile, quando ho visto i danni che si possono provocare da questo tipo di comunicazione, soprattutto perché questa comunicazione, noi capiamo anche i tempi in cui viviamo, una volta si potevano fare queste cose, tu non è che ci avevi accesso immediato a qualunque persona, che tu chiapi, fai un messaggino, questo te risponde subito e si comincia insomma un alter ego istantaneo, anche grandissime distanze di tempo, no? È una cosa certamente positiva e di per sé bella per tanti aspetti, ma supponiamo quando c'è qualche divergenza, si cominciano i batti, i botte a risposta, quindi gli alterchi, i batti e i becchi tramite messaggio, e si possono veramente creare, rovinare completamente dei rapporti, perché uno legge il messaggio, si sente toccato, si sente stia, pia e vrrr, in un istante risponde di getto, cosa che non si deve fare mai, cosa che non si deve fare mai, specialmente quando c'è qualche, vai, pensare, ponderare, riflettere, vedere se è il caso di rispondere, quasi sempre non lo è, perché la comunicazione scritta è foriera di grandi equivoci, chi mi conosce sa, anche sui miei numeri pubblici, di telefono, io non ho la messaggistica, non c'è né whatsapp né telegram, tanto se mi fanno messaggi non rispondo, perché ho dovuto prendere questa decisione e la ribadisco e ne sono sempre più convinto, alla luce delle esperienze maturate nel corso del tempo, quindi se qualcuno vuole scrivere mi scrivo una mail, io la mail con calma, quindi non c'è una pressione, perché la mail non ti arriva la notifica che tu stai con queste applicazioni che vedi in continuazione questo messaggio e quindi devi andare a leggere per forza subito, andare a rispondere quel che la persona esige, la mail si legge con calma, quando riesco a trovare un pochino di tempo, la posso leggere con calma, pondero, che tipo di dinamica c'è davanti, cioè leggendo in articolata si possono vedere tante cose, quindi vedere tante cose, che non le dico adesso, però ti dà la possibilità di calibrare una buona, come dire, una buona sacerdotalità diciamo così, attraverso questo sistema. L'impulso, la precipitazione non sono mai cose che ci portano sulla retta via, può darsi anche che una reazione immediata sia tutto sommato non negativa o positiva, ma è ravissimo e spesso e volentieri è un puro caso, le cose fatte bene devono essere pensate, riflettute. Bene, andiamo a vedere qualche cosa della Sacra Scrittura adesso, qualche passaggio, sono tantissimi, il termine prudenza nell'Antico Testamento, almeno se si fa una ricerca sulla CEI, ricorre 27 volte. Allora, leggo qualcosa, perché, allora, vi dico, i riferimenti si trovano nel libro di Giuditta, nel libro di Esther, nel libro di Giobbe, sapete che Giobbe già rientra nel libro di Giobbe, tantissime nel libro di Giobbe, tantissime nel libro dei Proverbi, molto significative, tre nel libro della Sapienza, diverse altre nel libro del Siracide, qualcuna nel libro dei Proverbi, una se ne trova in Isaia e le altre si trovano in Baruch, tra cui nella lettura che si leggerà durante la prossima Viglia Pasquale, e un'altra ancora in Daniele. Leggo alcuni di questi passaggi particolarmente significativi perché ci aiuteranno, diciamo così, a farci un'idea plastica adesso, intuitiva di questa virtù che poi andremo evidentemente a cercare di sviscerare, no? Come sempre. Per esempio, nei canuti sta la saggezza, adesso si legge nel libro di Giobbe, capitolo 12, versetti 12 e 13, e nella vita lunga la prudenza. In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza. Quindi attenzione, nella vita lunga risiede la prudenza, cioè la prudenza è la virtù generalmente delle persone che sono giunte un pochino a maturazione, molto difficile trovare un giovane che sia prudente. Un adolescente prudente è impossibile, ma anche un giovane prudente è molto difficile. Molto difficile perché questa virtù generalmente viene con il passare degli anni, perché nel suo esercizio, come vedremo, chiede anche di esercitare tutta quanto una serie di informazioni che si acquisiscono col tempo e con l'esperienza. Quindi quando un bagaglio di esperienza non c'è, è quasi impossibile avere questa virtù. Sapete che per esempio nella legge della Chiesa l'età minima attuale per poter essere nominati vescovi è 35 anni, che sono pure un po' pochini. Io posso dire adesso che ce n'ho 50, che questa virtù, che per me è stato sempre un grande problema, perché sapete che i temperamenti collerici non vanno molto d'accordo con la virtù cardinale della prudenza, sono altre le virtù in cui sono forti, ma proprio perché i collerici tendono molto molto facilmente a svicolare, nel senso ad agire in forza di quella super energia che si portano dentro o in preda all'ira, che come vedremo è il vicio opposto della prudenza. Quindi per un collerico acquisire la prudenza ci vuole sia l'età sia anche un pochino di sforzo protratto nel corso del tempo. Per esempio, Proverbi 3,13. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquisito la prudenza. Questo è veramente un passo molto molto bello. Volevo anche approfondire adesso, prendo un attimo il testo integrale, qui ci sono le citazioni, anche il seguito di questo brano dei proverbi, perché ciò che segue è ulteriormente esplicativo. Siamo al capitolo terzo, versetto colletto, versetto 13. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza, perché il suo possesso è preferibile a quello dell'argento e il suo proverbo a quello dell'oro. Essa è più preziosa delle perle e neppure l'oggetto più caro la eguaglia. Ecco, bisogna fare molta molta attenzione perché la sofia è la fronesis in greco. Ricorderemo che, ne abbiamo parlato, che la sapienza è la capacità di vedere le cose come le vede Dio e di penetrare e saper giudicare le cose in maniera soprannaturale. La prudenza è, abbiamo visto, la retta ragione delle cose da farsi, quindi è la capacità di discernere nel concreto quello che si deve fare. Quindi capiamo comunque, se uno ci avesse queste due virtù intellettuali, ricordiamo che la prudenza è una delle cinque virtù intellettuali, l'abbiamo vista a suo tempo, ha fatto strike perché ha capacità di discernimento soprannaturale e di discernimento naturale, intellettuale, che è proprio il top. Il suo possesso è preferibile a quello dell'argento e il suo provento a quello dell'oro. Ecco, quindi teniamo presente questo passaggio. Ancora, Proverbi 8, 5. Imparate inesperti, vedete, la prudenza e voi stolti fatevi assennati. Molto, 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 molto bello, no? Aspettate che sto cercando di andare a vedere, ecco. Ecco. Ancora. vedete che qui la prudenza, per esempio in questo brano, si oppone alla stoltezza. Frequentemente nella saga scrittura, prudenza e stoltezza sono opposti. Vediamo per esempio ancora Proverbi 14, 29. Il paziente ha grande prudenza. L'iracondo mostra stoltezza. Vedete? Quindi ci sta dicendo che la prudenza generalmente si trova in un cuore paziente. Il paziente è quello che è capace di soffrire. Perché molte volte noi prendiamo decisioni precipitose? Perché vogliamo sfuggire immediatamente da una situazione che ci dà in qualche modo fastidio, scomoda, che ci provoca e agitazione, che ci provoca sofferenza. Ma andando a fare danni più grandi di quelli che vogliamo risolvere, no? Mentre l'iracondo mostra stoltezza. Quindi che ci fa comprendere che prudenza e ira, come abbiamo già accennato, non vanno d'accordo, ma che l'ira porta alla stoltezza, tra l'altro. Quindi ad agire in maniera sconsiderata. Ancora, Proverbi 16, 22. Fonte di vita è la prudenza per chi la possiede, castigo degli stolti è la stoltezza. Ancora una volta, vedete, il prudente e lo stolto. Bellissima anche questa espressione del libro di Proverbi. Con la sapienza si costruisce la casa, ma con la prudenza la si rende salda. Proverbi 24, 3. Poi c'è il passo spettacolare del libro della Sapienza, che è proprio un cult. Questo dobbiamo andarlo a vedere. È la preghiera del grande Salomone, il sapiente e il prudente per Antonomasia, no? Allora, leggo il testo. Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. Vedete come di nuovo la prudenza e la sapienza sono accostate. La fronesis e la sofia. Vanno di pari passo. Sono, diciamo così, sorelle. La preferì a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come a fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. La amai più della salute e della bellezza. Preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Attenzione che il sapiente è sempre prudente, mentre il prudente non è detto che sia sapiente, d'accordo? Perché c'è anche la prudenza umana, no? Che non arriva al grado della sapienza soprannaturale, no? Ancora, se si va un pochino più avanti, si vedrà come nel capitolo ottavo del libro della sapienza, a un certo punto dice, ho dunque deciso di prendere la compagna della mia vita, la sapienza, dice Salomone, sapendo che mi sarà consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. E più giù, versetti 17-18, riflettendo su tali cose in me stesso e pensando in cuor mio che nell'unione con la sapienza c'è l'immortalità, nella sua amicizia grande godimento, grande godimento, e nel lavoro della sua amica era una ricchezza inesauribile e nell'assiduità del rapporto con essa prudenza. Vedete? Nell'assiduità del rapporto con essa prudenza. E nella partecipazione sui discorsi fama andavo cercando come prenderla con me. E come facciamo quindi a trovare, a trovare questa sapienza e prudenza? Mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore. E qui poi c'è la bellissima preghiera di Salomone, no? Dio dei padri e il Signore di misericordia che tutto è creato con la tua parola, dammi che con la tua sapienza ha formato l'uomo, eh? Dammi la sapienza che siete accanto a te in trono, eccetera, eccetera, no? E con la sapienza sappiamo che poi nella letteratura biblica viene sempre insieme la prudenza. Il libro del Siracide, anche qui, si trovano degli spunti molto interessanti, sempre per il capitolo primo. Comincia subito alla grande il libro del Siracide, no? Dopo aver detto che ogni sapienza viene dal Signore ed è sempre con lui, del versetto 1 al 4, già si dice Prima di ogni cosa fu creata la sapienza. Prima di ogni cosa fu creata la sapienza. E la saggia prudenza è da sempre. Bellissima questa espressione. La saggia prudenza. Caesionesis froneseos, ex aionos, proprio la saggia prudenza. È da sempre. Quindi, sempiterna come la sapienza. Sapete che la sapienza in quanto virtù è una effusione, un riverbero della sapienza increata. La sapienza increata è il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, in base alla letteratura praticamente universale. Attenzione, ancora, Siracide e 19 altri libri sapienziali sono veramente meravigliosi. Sto dando una piccola rassegna perché poi spero che venga anche il desiderio di leggerli, no? Non c'è sapienza nella conoscenza del male. E non è mai prudenza il consiglio dei peccatori. Guarda che massime stupende, no? Oggi, per esempio, sapete che si dice sempre una delle stupidaggini più grosse che esiste, che bisogna fare esperienza. Dice, ma se tu hai fatto l'esperienza del male, poi lo conosci meglio e lo eviti, no? La stupidaggine è grossa quanto una casa, no? E come per dire a una persona, beh, per apprezzare la salute, tagliate una mano e mettici quattro punti. Così poi vedrai quanto apprezzerai il fatto che la mano non te se taglia e quindi che stai in buona salute, no? Ma che stupidaggini sono, insomma, no? Però sono molto diffuse oggi, no? E sempre il Siracide, al capitolo 25, versetto 9, dice Fortunato chi ha trovato la prudenza, chi si rivolge a orecchi attenti. Fortunato chi ha trovato la prudenza, chi si rivolge a orecchi attenti. Nel versetto 10 dice, ma quanto è grande chi ha trovato la sapienza, ma nessuno supera chi teme il Signore. Ecco, nei libri sapienziali la sapienza stessa e la prudenza stessa dipendono da una grande disposizione del cuore, che è il timore del Signore. Il timore del Signore che non è la paura del Signore, ma è quel senso di riferenza nei suoi confronti che muove al desiderio di conoscere Lui, di conoscere come Lui la pensa, quello che Lui vuole, perché conoscere come Lui la pensa è la sapienza. Conoscere quello che Lui vuole e poi cercare di metterlo in pratica è la prudenza. Ecco, quindi... Sono considerazioni, credo, molto, molto... molto belle. Impara ancora dov'è la prudenza? Ah, adesso abbiamo poi il profeta Baruch, che, ripeto, questa è una delle nuove letture proprio della veglia di Pasqua, no? Molto bella. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per intendere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e invece in terra straniera? Qui ci facciamo un anticipo di sabato notte, eh? Perché ti contamini con i cadaveti che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nei sentieri di Dio, saresti vissuto sempre in pace. Se tu avessi camminato nei sentieri di Dio, saresti vissuto sempre in pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dove c'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Impara dov'è la prudenza. La prudenza si trova dove? La prudenza si trova nel Signore. e nel non abbandonare mai i suoi sentieri. Questa è somma prudenza. Non abbandonare mai i sentieri dell'Altissimo. Ora, detto questo, andiamo a vedere insieme la virtù cardinale della prudenza Per esempio, cosa si trova anzitutto nel Catechismo Maggiore di San Pio X? Che definizione dà della virtù cardinale della prudenza? Anzitutto, quali sono le virtù cardinali? L'elenca, dice, perché la virtù, la prudenza, la giustizia, e la fortezza e la temperanza si chiamano virtù cardinali. La prudenza, la giustizia e la fortezza e la temperanza si chiamano virtù cardinali perché sono il cardine, il fondamento di tutte le virtù morali. Cioè, vedremo che in ciascuna di queste virtù, da ciascuna di queste virtù, ne discendono tutta quanto una serie da ciascuna di questi cardini il cui numero completo integra tutta la serie di quelle che sono le virtù morali, che sono veramente tante, quindi che sono necessarie per vivere rettamente la rettitudine con la R maiuscola. Ora, che cos'è la prudenza? Stiamo al numero 913. La prudenza è la virtù che dirige ogni azione al debito fine. Ogni azione al debito fine. E però cerca i mezzi convenienti affinché l'opera riesca in tutto ben fatta e quindi accetta il Signore. Qui viene introdotto un punto fondamentale. La prudenza certamente ci ordina al debito fine, quindi a fare la cosa giusta, diremmo. Ma se ci avete fatto caso è già comparso questo aspetto. Non basta fare la cosa giusta, ma occorre farla anche nel modo giusto. Cioè, i mezzi convenienti affinché l'opera riesca in tutto ben fatta. Questo è un punto capitale, specialmente per noi figli di Dio. Sant'Alfonso Maria degli Uori aveva una massima molto pertinente e molto attuale, che diceva non basta fare il bene bisogna farlo bene. Si chiosa questa espressione perché il bene fatto male è male. Facciamo subito un esempio di strettissima attualità? Facile, facile, insomma, no? Pensiamo a tante cose che non funzionano oggi nella nostra amata più che amata madre chiesa. Quante cose non funzionano tanto bene? Punto interrogativo. Abbastanza. O Dinanzi a tante cose che non funzionano tanto bene cosa fare? Ecco, perché sul cosa fare si sfracellano in tanti. Perché alcune cose che non vadano bene lo sanno tutti. Il problema è che cosa si può fare per affrontare certe cose per risolverle. La prudenza, per esempio, consente di formulare dei giudizi molto ben precisi. Rimanendo nell'esempio che ho fatto. C'è questo problema ecclesiale X. È un problema solubile questo qui da noi esseri umani o no? Perché se la risposta è la seconda l'unica cosa che rimane da fare è pregare che ci metta le mani il nostro Signore se non è umanamente solubile. Facciamo uno step ulteriore. Stiamo nella settimana di passione. Pensiamo al Gezzemani a San Pietro che estrae il coltello e taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Cosa sta facendo? Sta agendo per amore di Gesù. Quindi il fine di quella azione è buona. Ma il mezzo non è buono. Primo perché non si taglia l'orecchio a nessuno. Secondo perché Pietro che cosa risponde Gesù a Pietro quando lo rimprovera? Rimetti la spada nel fodero perché chi di spada ferisce di spada ferisce ma poi aggiunge non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Cioè quello che tu stai facendo che è mosso dall'amore per me difetta di una considerazione. Sto vivendo quella che sarà una tragedia ma questa tragedia è il calice che il Padre mi ha dato perché la passione di Gesù è stata sofferta per volontà di Dio perché attraverso quella doveva realizzarsi la retenzione dell'umanità. È chiaro che questo non è da intendere nel senso che Dio ha voluto che fossero compiuti tutti quanti i peccati mortali gravissimi che sono stati fatti in occasione della passione di Gesù né tantomeno che a quelli che li hanno commesso bisogna andare a dire bravi. Non è questo il senso. La divina provvidenza e la divina bontà fa in modo di indirizzare al bene e la passione di Gesù nella prova proprio eloquente per l'antonomasia anche i mali e i più gravi mali ma questo dipende appunto dall'onnipotenza di Dio perché i mali non smettono di essere di essere mali per questo però vedete come come Gesù spiega bene il disordine nell'agire di Pietro quindi i mezzi non erano buoni perché non si usano non si possono usare le spade per fare giustizia mancanza di considerazione tipica della virtù della prudenza di una circostanza fondamentale cioè questa tragedia che tu vorresti impedire per l'amore che hai verso di me non la puoi non la devi impedire con questo per esempio mi si consenta situazione ecclesiale attuale noi dobbiamo capire una cosa certamente che dobbiamo fare il possibile perché certe cose siano ridotte non accadano ma attenzione la purificazione che la Chiesa sta passando in questo momento storico ormai da un po' non c'è da dubitare che sia voluta da Dio proprio per la sua purificazione per cui se uno si mette a come direi mettersi di traverso dinanzi a questa situazione con mezzi disordinati può avere tutte le buone intenzioni di questo mondo e certamente se ce le ha il nostro Signore le terrà in considerazione ma sta sbagliando perché sta uscendo da quella che è la volontà di Dio qualunque cosa che si voglia fare di bene bisognava sempre chiedersi se ci sono mezzi buoni per raggiungere questo obiettivo oppure non ci sono quindi capiamo il il contesto no leggo dando verso la conclusione anche quello che accenna il Catechismo della Chiesa Cattolica quindi non il Catechismo di San Pio X ma il nuovo Catechismo sulla virtù cardinale della prudenza e riprende come vediamo come subito la definizione di San Tommaso la prudenza e la virtù che dispone la ragion pratica a discernere in ogni circostanza attenzione il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo sono due i problemi per noi figli di Dio uno conoscere il vero bene due i mezzi adeguati per compierlo perché attenzione che il fine giustifica i mezzi come diceva questo lo può dire Machiavelli ma questo è assolutamente inaccettabile perché il fine non giustifica affatto i mezzi l'esempio classico si fa Robin Hood dice ma quello ruba i ricchi per dare ai poveri se vuoi aiutare i poveri Dio ti benedica ma aiutarli rubando ai ricchi quindi venendo a contravenire la virtù cardinale della giustizia quindi usando un mezzo cattivo può essere un fine buono non si può non si può l'uomo accorto controlla i suoi passi cita il catechismo un altro passo del libro dei proverbi che non ho letto io è uno del nuovo testamento il nuovo testamento la parola fronesis non appare direttamente ma appaiono delle circonlocuzioni che fanno chiaramente riferimento alla sapienza una si trova nella prima lettera di San Pietro siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera moderati e sobri la moderazione e la sobrietas ripeto per poter essere prudenti bisogna moderare assolutamente le passioni gli impulsi dell'ira le reazioni istantanee una prima battuta tanto poi ne ritorneremo non sai che fare su una cosa benissimo facci una bella preghiera sopra istantanea e poi fattici sopra un bel sonno non decidere mai abbrusapelo guardate provate io spero che il Signore quando io faccio qualche esempio spero sempre che il Signore illumini le coscienze voi pensate a quante stupidaggini che fanno gli esseri umani proprio per la sconsideratezza per il fatto di reagire senza di agire senza riflettere senza riflettere perché trascinati o dalle proprie emozioni o dalle proprie passioni o dalla pressione sociale dalla paura da tante cose così non si fa mai la cosa giusta la prudenza è la retta norma dell'azione scrive San Tommaso sulla scia di Aristotele essa non si confonde con la timidezza o con la paura né con la doppiezza o la dissimulazione è detta auriga virtutum cocchiere delle virtù essa dirige le altre virtù infatti indicando loro regola e misura regola e misura la nostra vita dei figli di Dio è una vita regolata misurata e ordinata la prudenza su questo svolge una funzione fondamentale è la prudenza che guida immediatamente il giudizio di coscienza attenzione la prudenza è proprio strettissimamente connessa con il giudizio di coscienza l'uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio apriamo bene le orecchie allora cerco di rappresentare come posso questo processo questi sono processi mentali per cui il catechismo spiega molto bene comunque io provo a approfondire un po' la prudenza guida immediatamente il giudizio di coscienza chi te lo dice se una cosa è buona o cattiva te lo dice la tua coscienza è il tuo cuore e attenzione quando la nostra coscienza o il nostro cuore ci dice una cosa noi abbiamo il dovere di formare la nostra coscienza di formarci cristianamente quindi evidentemente di fare in modo che il nostro patrimonio assiologico perdonatemi la parola grossa diciamo il nostro patrimonio di valori sia quello corretto ma la coscienza dobbiamo sempre seguirla che cosa succede? quando seguire la coscienza comporta dei sacrifici è difficile partono subito quelli che maestri di spirito chiamano i ragionamenti dell'amor proprio cioè siccome alla mia umana volontà non gli sta bene affrontare quel sacrificio sostenere il peso di quella decisione che io sento essere giusta allora devo trovare delle argomentazioni più o meno razionali ma campate in aria che mi forniscano una giustificazione per fare il contrario di quello che la coscienza e attraverso di essa la prudenza mi dice guardate che di queste cose qui sono piene strapiene le cronache di questi tempi strapiene strapiene quanta gente mi ha levato la pelle sulle grandi questioni di questi due anni e come faccio la comunione o non faccio la comunione con le norme della CEI e poi tutta quanta la problematica inerente a se posso dire alla terapia da seguire in relazione alla pandemia che faccio che non faccio io mi sento questo io mi sento quest'altro e però c'è questo problema e poi questo questo e quell'altro a destra e a sinistra si segue il giudizio della nostra coscienza mettendo in atto mezzi adeguati per poterlo seguire stop sentite come conclude il catechismo il uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio è una cosa tua tu puoi anche chiedere un consiglio esterno ma non puoi delegare ad altri l'esercizio del tuo diritto e dovere di prendere le tue decisioni come si dice nel linguaggio comune in scienza e coscienza grazie alla virtù della prudenza scrive sempre il catechismo applichiamo i principi morali ai casi particolari senza sbagliare e superiamo i dubbi sul bene da compiere e sul male da evitare capiamo quant'è è importante questa virtù perché si chiama auriga virtutum senza questo è proprio la fine perché senza questo è un cieco che guida un altro cieco cascano tutti e due dentro una buca sicuro al 100% non si fanno le cose giuste senza questa virtù non si fanno ecco quindi basti come introduzione abbastanza approfondita insomma a questo a questo argomento e la prossima volta Dio piacendo diceva bene bella questa virtù come facciamo ad acquisirla come è fatta come si alimenta come si esercita ecco la prossima volta proveremo a cominciare a dare qualche luce speriamo qualche qualche criterio di risposta a queste domande bene io intanto do il mio saluto e la benedizione a tutti per chi ha seguito la diretta anche per chi no mi raccomando una santa settimana santa e una santa pasqua se non dovessimo risentirci in nessun in nessun luogo ufficiale ci vediamo alla prossima e Dio vi benedica e la Madonna vi protegga